Un plauso per il personale medico, la protezione civile, ma per la struttura è tutto da vedere. Non si può lasciare persone di oltre 80 anni in mezza. Fortunatamente oggi c'è il sole, ma se fosse una giornata di pioggia, ma dove andiamo? Vaccini over 80, la macchina organizzativa va avanti, ma nel centro sociale Monaldi, alla celletta di Pesaro, qualche intoppo questa mattina c'è stato. Anziani costretti ad aspettare per oltre un'ora e mezzo il proprio turno all'esterno della struttura. Inevitabili gli assembramenti durante l'attesa, un problema derivante dal fatto che in una postazione degli operatori, riferiscono dall'area Vasta 1, un computer non funzionava. I sanitari si sono adoperati per cercare di risolvere le criticità nel più breve tempo possibile, ma nel frattempo, fuori dal centro, la rabbia tra gli anziani in attesa montava. Stamattina ci sono le persone dagli 80 anni in su, insieme ci sono anche gli insegnanti. Allora non è giusto che le persone di 80 anni in su, fino a 90, io mia mamma a 91 anni, debba stare fuori con la prenotazione fatta a sedere su una seggiola all'aperto e magari prima fanno gli insegnanti. Non è giusto, non è giusto, ma bisognava metterli in un altro giorno, non con queste persone così anziane. Organizzare una vaccinazione in queste condizioni, mettere un numero di persone conosciuto, perché sapete quante sono, mescolando gli ottantenni agli insegnanti e poi mettendoli in un buco come il centro Monaldi, un rottame, una schifezza. Lei sta aspettando da molto tempo? Io avevo appuntamento dalle 11 a mezzogiorno, ma con me, dalle 11 a mezzogiorno, quando c'è una capacità, penso, di una sessantina di vaccini, ce n'erano 70-80. È una cosa assolutamente inconcepibile e poi se ne vantano pure. Oggi a Pesaro ne sono stati vaccinati 672, in contemporanea sono partite le vaccinazioni per i rappresentanti del personale scolastico. Diversi gli ultraottantenni che hanno lamentato un'inefficienza relativa all'organizzazione qualcuno ha richiesto addirittura di individuare sedi più grandi per la prossima somministrazione del vaccino. Così non va bene. Noi siamo gli over 80, non abbiamo 30 anni. E stare qui le ore seduti... Lei signora a che ora è arrivata? A che ora doveva fare il vaccino? Io avevo l'appuntamento per tutti, ovviamente, dalle 10 alle 11. Quando sono arrivata alle 10.10 ho avuto il numero 14, ma della campagna delle 10. E qui ancora c'erano quelli del turno precedente. Quanto ho aspettato? Io sono arrivata alle 10 perché sono dalle 10 alle 11. È un'ora e mezzo che sono qua. Sono stata a Fano al Codma. In mezz'ora ho fatto tutto. Io sono cardiopatico, ho fatto l'intervento al cuore. Qui devo aspettare, dalle 11 a mezzogiorno lei si figuri... Comunque, tutti così. Bisogna avere pazienza, però... Se facevano più punti, non era meglio? C'è tanto spazio? Vabbè, non diciamo niente, che tanto le cose non cambiano.